Arte, bellezza, benessere. Come l'arte e il bello influenzano la salute. Questo è il titolo del convegno che si terrà domenica 27 ottobre alle 10 nella Sala Convegni di Confcommercio rinnovando il consueto appuntamento annuale di focus da approfondimento organizzato dall'Associazione 50 e più in collaborazione con Terziario Donna e la Beauty Personal Trainer Stella Scarpa. L'arte, la bellezza e il benessere sono delle medicine dell'anima e quindi noi tenendo molto al benessere psicofisico dei nostri associati abbiamo cercato un tema particolare d'altra parte come ogni anno che cerchiamo sempre di dare delle novità ai nostri soci e invitando esperti a livello nazionale. Ci racconteranno tutto quello che è possibile capire perché l'arte fa bene alla mente e anche al fisico. Relatori del convegno, i docenti dell'Università Tor Vergata di Roma Angela Savino Ottavio De Clemente, l'arte terapeuta Anna Maria Taroni, l'igienista dentale Alessia Morelli e la stessa Stella Scarpa. Vi invitiamo a scoprire come l'arte e la bellezza possano trasformare la nostra vita e influenzare positivamente la nostra salute. Durante il mio intervento discuterò di armonia tra aspetto e sentire rivelando come investire nella nostra estetica personale possa diventare un potente strumento per aumentare la tua stima e promuovere la felicità. Unitevi a noi per vivere insieme questa straordinaria esperienza e ricordatevi che la bellezza è un vero e proprio farmaco per il cervello. Come fare a meno di arte, bellezza e benessere? Sono le prime lettere dell'alfabeto e non possiamo farne a meno. Io da Presidente Terziere Donna sono fiera di avere all'interno del nostro Consiglio, come Vice Presidente Stella Scarpa, come Consigliere Alessia Morelli, due delle relatrici di questo convegno. Quindi vi aspettiamo perché sarà una mattinata veramente interessante. Convegni d'approfondimento che periodicamente si affiancano ai servizi proposti da 50 e più. Si rivolge alle persone che hanno compiuto più di 50 anni e i servizi proposti sono soprattutto i servizi Enasco, per cui su tutto il territorio della nostra provincia proponiamo questi servizi dell'Enasco che riguardano sia la parte previdenziale che la parte finanziaria. E inoltre, chiaramente, come dicevo prima, noi ci occupiamo di far star bene i nostri associati, sia da un punto di vista del benessere psicofisico che sociale. Per cui organizziamo incontri, eventi e anche facciamo moltissime serate insieme, dove stiamo benissimo, ci divertiamo perché è questo che bisogna fare a una certa età.